Ima Camera non è esattamente una citazione di Vivian che però non l'ha lasciata lei, però mi è sembrata perfetta perché è bella quella macchina fotografica, è bella lei e lei era una macchina fotografica, io sono convinto di questo, lei era una fotografa mancata, ma mancata quasi volutamente, un poco si era voluta esiliare da tutto, o forse anche non ce l'ha fatta, non lo so, un insieme di cose. E poi in più c'è questo doppio senso della camera italiana, per cui uno fa una traduzione che non è vera perché Camera è macchina fotografica, però in realtà è una camera, è la camera oscura, è quel buco nero che c'è tra l'obiettivo e la pellicola e secondo me lei era lì dentro e lì dentro succedeva una storia incredibile, tra chi fotografava, lei che fotografava e il soggetto fotografato, secondo me si creava un'alchimia, qualche cosa di strano. Lo spettacolo è molto particolare, uno spettacolo, sono convinto, denso di poesia, uno spettacolo un po' sospeso, uno spettacolo che fa sognare, qualcuno mi ha detto che non ha un modo di presentare la fotografia né troppo aggressivo né troppo saccente, anche perché le cose le sto continuando a cercare io. E Vivian è la persona perfetta, giusta, Vivian Meyer è la persona che non è mai stata né saccente né ha mai voluto insegnare niente, anzi si è tenuta nascosto così tanto che ha nascosto a se stessa le fotografie che scattava. Quindi venite perché questo secondo me è un messaggio molto importante e l'altro messaggio importante è quello di scattate, scattate ma con una grandissima coscienza perché la fotografia è un'arte meravigliosa ed è un'arte oltretutto bellissima usata tantissimo dalle donne. Secondo me questa è l'arte che è usata più dalle donne e Vivian era una donna e questo è il messaggio, se venite a vedere lo spettacolo scoprite tutti una bella anima femminile che anche i maschietti hanno.